buonasera a tutti sono luigi naracco se preferite e benvenuti al primo tutorial di seven del sin grand cross yami tu vabbè il titolo è lungo più dell'ultima opera teatrale di prescilla quindi lasciam perdere comunque benvenuti questo sarà un primo tutorial molto blanzo la grafica era appazzonata da me chiedo infatti il mio grafico di iniziare a prepararne varie magari di contattarmi che domani ne parliamo i tutorial serie arriveranno da sabato questo è semplicemente un primo video in cui vi do alcuni consigli di gioco riprendetelo come un consigli generale primo consiglio generale ogni giorno e mi pare abbastanza logico fate le daily quest delle quest che trovate qua non è non ho ancora capito come scelgono ogni giorno quale di quest darvi come vedete io ne ho avute alcune di rango 4 si rango 3 penso che sia semplicemente ogni giorno che fate una quest sbloccate il giorno dopo quella di livello successivo il che avrebbe anche senso senso e tutto quanto anche se da più di una settimana che gioco quindi è anche un po in così grande senso strano che non abbia ancora sbloccato magari qualche livello più alto comunque le queste vanno a crescere come vedete di premi fino ad arrivare a premi tanto carini come queste qua del pvp parliamo poi di naturalmente per tutti voi che state iniziando mentre vado a farmarmi una missione queste sono tutte le missioni che attualmente ho attive devo portare al 50 medio das e ban ma allo stesso tempo mi sto farmando i primi quindi ecchipe ssr per le no build dato che voglio un attimino capire quant'è la differenza di stats tra build completa e incompleta mi sto anche facendo salire quel pg sr limited quindi approfittiamo dell'auto play nel mentre vedete allora come iniziare ragazzi il mio consiglio per iniziare e magari ve lo farò vedere qua nella lavagna che dovrei aver messo accanto e entrate nel gruppo telegram gruppo telegram che trovate in descrizione e spero di non fare la gaffa di dimenticarmi come al solito di mettere i gruppi in descrizione entrateci trovate la tier list aggiornata alla nuova batch di oggi potete trovare molti player potete trovare in futuro anche la gilda ed è importante trovare la gilda perchè da diverse cose carine nel momento in cui si riesce a fare nel giro di penso una settimana massimo si dovrebbe riuscire ad aprire money permettendo che costo un milione quella dannata gilda però money permettendo nel giro di una settimana si dovrebbe riuscire ad aprire una volta che si esiste al gruppo e quindi potete avere le informazioni base e c'è la tier list andiamo a il reroll che è la cosa di base il reroll è molto semplice il fast reroll basta cancellare il proprio account una volta che lo fate trovate anche per quello tutte quante le info nel gruppo di base voi scaricate il gioco vi fa fare una prima multa il gioco in cui avrete il 20% di ottenere questo meliodas qua che vedete che sto usando il meliodas green allora ragazzi il vostro obiettivo è iniziare il gioco con questo meliodas green questo perchè non è il miglior pg del gioco molto probabilmente anche solo gothel red qua accanto in toto è meglio di lui perchè gothel red ci puoi fare delle combo con 20.000 pg diversi però questo meliodas vi aiuterà in una marea di situazioni ad esempio nella quest di gothel nel capitolo 5 cosa ha fatto? in cui dovete affrontare la versione demoniaca del cavaliere del cavaliere corrotto tramite una combo tra gothel e meliodas si riesce praticamente a one shottarlo con un full counter bisogna anche capire che purtroppo c'è modo di bloccarlo meliodas quindi non è OP a quei livelli tutto in pvp in pvp meliodas poraccio o lo si utilizza qua intanto vedete la build 65% critico come lavora e devo capire infatti con gli equip sr maxati se rimane questo divario di potenza quindi me li sto iniziando a farmare un pochino proprio per capire quello quindi la prima multa avete un 20% di ottenerlo rerollate finché non lo trovate quindi avete due strade davanti a voi io personalmente ho fatto summon nell'unica batch che c'era ho fatto una multa in quanto ve ne regalano una fino a quando non ho trovato un altro pg che all'epoca era nel tier più alto un secondo che oltre 100 non vado ho speso quanto una decina di gemme penso per aumentare gli spazi perché 50 sono pochissimi ragazzi sinceramente 50 spazi sono davvero ecco un altro consiglio portate a 100 gli spazi per gli equip perché aiutano un po' eh sì un pochino di roba ssr sr che posso tranquillamente vendere intanto ne ritroverò a oltranza possiamo vendere questo vai dian chietà non le stiamo vendendo le stiamo trasmutando ok r non parliamo quante ne ho eh ma ne devo tenere qualcuna in più in realtà ora che ci penso perché r possono ancora essere rollate quindi teniamone qualcuna r queste posso vendere quelle poi posso vendere che tanto se ho le r posso rollare le r rarità più basse mi importano abbastanza poco almeno di quei set che sono facili da farmare tipo il set difesa il set attacco che davvero si farmano con una facilità assurda attualmente gli unici set che ho visto che c'è un pochino di difficoltà a farmare sono i set critical chance credo no no critical damage e vampirismo cioè vampirismo ancora non li ho trovati probabilmente sono nel capitolo 6 critical damage sono nel capitolo 5 quindi ci vorrà un pochino scripiamo no mi sono preso un altro po' di roba per maxarmi poi l'SSR perfetto finita la missione va bene tanto Fede si sta incavolando come una biscia torniamo qua torniamo qua per il resto una volta che avete io mi sono bloccato qua in una posizione molto scomoda una volta che avete rerollato meglio come vi dicevo avete due possibilità la prima è di fermare la rerolle e iniziare a giocare la seconda è di fare un ulteriore sted rerolle ovvero quello di cercare un pg di tegliera alta attualmente come potete vedere nella tier list sono diversi pg davvero buoni che si possono trovare molti sono pg coin come questo goter e questo ban quindi non li potete avere se non comprandoli quando arrivano nello shop però ce ne sono altri davvero buoni che si possono trovare la nuova merlin il nuovo elbram sono entrambi pg buoni elisabeth della batch che trovate ancora nel gioco è un'ottima healer uno dei pg che però mi viene da consigliare è cercare il thunder che è l'unico vero tank del gioco oggi in quanto sia elisabeth che merlin che elbram sono facilmente scambiabili con degli sr o dei free to play quindi starla rerollare all'infinito per loro non lo reputo la scelta più vantaggiosa continuate quindi a rerollare finché non potrete iniziare a giocare una volta che potete iniziare a giocare il mio consiglio è non fermatevi a farmare la prima città portandola sopra andate più avanti possibile nella storia in quanto ci sono tantissime cose che vengono sbloccate unicamente avanzando nella trama il pvp che è una fonte di gemme settimanale ai livelli più alti ne dà 50 la settimana ragazzi 50 che penso che ci voglia molto a capire che avere 50 gemme la settimana così non è male ma dà anche dei pull nella batch equipment che a livelli decenti decenti non è male all'incirca quando siete nel gold che quindi vi dà i pull nella batch R inizia a essere davvero interessante e ne dà tanti perché io che settimana scorsa ero sono ancora in una lega abbastanza bassa ma dovrei arrivare tra stasera e domani alla lega argento almeno stando proprio dalla fine della lega bronzo ho mandato 14 pull quindi non è da buttare ma sì mi hanno ucciso Gotter te cosa fai? qualche donna andate quindi avanti portate avanti più pg possibile iniziate subito ad allenarvi il Meliodas e il Ban che vi regala il gioco in quanto serviranno a livello 60 per andare alla fine del capitolo 5 dove sono io io li ho livello 1 SSR quindi devo abbastanza livellarli e inizio a fermare il più possibile un pochino tutto c'è bisogno di un team abbastanza buoni per andare avanti nella storia se bloccato il gioco è crashato secondo solo ed eccoci ho restato il gioco dovremmo riuscire a chiudere a chiudere sì ok perfetto adesso blocco un altro qualfarm perché vi do qualche consiglio anche più generale quindi questi sono i primi consigli che mi vengono in mente cercate sempre di usare la stamina la stamina si rigenera a una velocità imbarazzante qua nello shop scambiate sempre per le pozioni o tipo 1400 prendete tante pozioni stamina i coin argento inizialmente io li scambiavo per ticket per provare pulare ragazzi è una cavolata scambiate tutto per pozioni stamina perché i ticket hanno rate talmente pessimi di carte che quasi inutile prendete costano 8 le pozioni stamina vi danno un vantaggio nel poter livellare i pg che la metà basta questo è un gioco che nel pve si può finire tutto con i pgr livellati tenetevi sempre almeno 20 coin oro ragazzi almeno 20 coin oro tenetevi sempre da parte in quanto vedete domani arriva come si chiama lui vabbè arriva lui che mi manca messa a serie lo prenderò e mi tengo 20 coin da parte perché comunque se vedete qua a me mancano una decina di pg mancano sti 10 ora tolta merlin elisabeth e brann e anche questo ban verde i due king grassi la dian il goter il ban blu possono tranquillamente uscire nei coin oro e trovarli non sarebbe male perché così è più pg se c'è qualche pg sr che vi piace portatelo anche se è un r e un sr sopra perché può davvero aiutarvi e quando trovate copie di pg tipo copie di questi inutili essere che ne ho trovati 8 8 ne ho trovate di te inutile essere perché fai schivo sei inutile non aumentate l'sa aumentare l'sa aumenta di tanto il danno aumenta anche di un buon 20% a botta il che vuol dire che ipoteticamente portandola al massimo aumentate di un buon 100% i danni ma a oggi è molto meglio tenere per i pg coin perché ragazzi ban gother anche merlin che sto rivalutando la merlin la merlin verde devo solo capire bene come funziona il cubo perfetto ma la sto rivalutando parecchio e soprattutto il nostro dio e padrone demon meliodas son pg che non hanno alcun senso di esistere ragazzi non hanno alcun senso di esistere sono davvero fortissimi soprattutto se buildati bene quindi questa è una carrellata di consigli generali io vi aspetto nel gruppo in descrizione noi con seven daily sin grand cross dovremmo rivederci sabato se tutto va bene con il primo vero e proprio tutorial in cui parleremo di personaggi quindi un'analisi della scheda personaggi e delle statistiche in quanto molti di voi alcune statistiche neanche avranno idea che esistono per molti personaggi perché se vedete ci sono tutti questi numeri e molti di voi probabilmente non stanno neanche troppo a fermarsi a vederli invece sono abbastanza importanti grazie di tutto e alla prossima convenienza